Il centro di Roma è morto, la metà dei locali sono chiusi, chi ha aperto sta soffrendo in una maniera allucinante e siamo qua, lavoriamo 35 ragazzi, siamo rimasti in due, gli altri stanno tutti in cassa integrazione e ancora devono percepire questa cassa integrazione. La turista si vedono veramente pochi, non siamo proprio abituati a uno scenario del genere, capiamo magari per il romano che viene che è un pochettino più piacevole, però poi che si trova a dover affrontare il discorso di un'attività in centro, magari un pochettino più complesso come il discorso. Se non arrivano i turisti noi qua... tragica. Per prendere qualche cliente avevamo messo addirittura i cocktail a 5 euro, che penso neanche se vai all'ultimo bar e trovi un cocktail a 5 euro, di fronte al panto, eppure non si sedevano. Forse il 3 febbraio alle 3 di notte ho visto questa piazza così vuota. Prima turista dopo 3 mesi. Bello grano e fito caramellizzato. Ah vedi, ho consigliato io il gelataio, com'era? Com'era? Eh? Primi turisti dopo 3 mesi, ora li accompagno in camera che domani vengono a fare il bel negroni da noi, bello carico, ok? Ecco, ecco. Mi li tengo stretti, va bene? Certo, certo.